Guiltless, letteralmente senza colpa, è il titolo della mia mostra perché troppo spesso la sensazione della colpa accompagna la vita di una donna e sul set invece mi sono resa conto che è stata proprio l'assenza di giudizio che mi ha reso possibile di ritrarre queste donne in maniera così libera, così vitale non si sono sentite appesantite dal giudizio del sociale, di tutte le costruzioni con cui cresciamo il genere del nudo in generale non mi è mai piaciuto e non l'ho mai seguito perché volevo creare comunque un elemento di rottura rispetto alla tradizione del nudo che c'è stato in fotografia dove la donna veniva sempre detratta in maniera molto come una donna oggetto come un cliché, mentre per me è molto importante tirare fuori la personalità della donna che sto ritraendo la sua forza e il suo carattere e in questo mi aiuta il fatto appunto di essere una donna perché mi riconosco e mi rifletto nel soggetto che ho di fronte grazie a tutti